un bel ritrovato a tutti quanti voi e benvenuti a questo nuovo appuntamento oggi siamo in un posto magico siamo da fassina naturalmente in via gian battista grazie al numero 98 e siamo nel salone bentley ciao danni ciao 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 ben tornata ben ritrovata un raggio di sole in questa milano grigia io mi sono messo anche la camicia bianca per far risaltare la grigia il tempo per castigarli ci troviamo giustamente come dice arianna in questo ma che meraviglia una novità la novità qui in via giovane battista grassi il salone bentley già operativo a pochissimi fra pochissimi giorni sarà operativo anche il salone mclaren che proprio il muro qua di fianco per cui avete la possibilità all'interno di questa struttura di 40.000 metri quadri di trovare tutti i marchi di rappresentanza del gruppo fassina e anche queste due perle particolari che sono la super elegante bentley è la sua sportiva neclare vi ricordo che in questa sede potete trovare tutti i marchi di rappresentanza del gruppo fca per cui fiat alfa abart lancia i veicoli commerciali potete trovare chiaramente jeep c'è anche una rappresentanza di volvo poi ci sono gli orientali con mitsubishi e hyundai e la nuovissima arrivata mg con tutti i suoi prodotti ibridi ed elettrici in questa sede unica avete la possibilità da lunedì al sabato e le domeniche quando sono consentite di venire qua a fare una bella passeggiata in un mondo di autovetture venite venite oggi più che mai oggi più che mai cari arianna avere 400 autovetture usate a disposizione è veramente una cosa fantastica perché tutti noi stiamo vivendo questo momento del post pandemia per cui le fabbriche stanno facendo un po' fatica c'è un po' di problemi legati anche a quelle che sono le materie prime semiconduttori per cui la disponibilità di prodotto è attualmente molto molto scarsa invece qui dal gruppo fassino qua lo vedete lo provate e poi se volete lo acquistate e uscite con le chiavi della vostra autovettura c'è solo l'imbarazzo della scelta adesso ci sposteremo da questo bellissimo salone di super eleganza nella parte dedicata alla trasmissione che è quella delle autovetture a chilometro zero e usate dove vi faremo vedere i vari hanno una grande carrellata di prodotti di vari marchi proprio per darvi la possibilità di scegliere l'auto dei vostri sogni già guardando la televisione ma se è veramente veloci perché i tempi televisivi come voi sapete sono veloci volano guardate un po' la possibilità di andare su questo bellissimo sito che andremo a vedere poi nel dettaglio dove avete come arianna sempre spiega un bellissimo motore di ricerca e potete già cercare quello che state potete anche trovare quelle che sono le offerte del mese piuttosto che le autovetture dedicate alle aziende fleet and business per chi ne usa per lavoro insomma già la possibilità di farvi una panoramica a 360 gradi di quella che potrebbe essere l'auto dei vostri sogni e poi non vi rimane che venire qua assolutamente c'è tutto lo staff a vostra disposizione venite 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 dai allora iniziamo ad andare perché i nostri clienti vogliono vedere sono curiosi seguiteci io promesso 400 macchine ho deciso di partire da questo canale per darvi proprio una carrellata di quella che è la grandissima disponibilità vedete qua quanti renegade avete avete soltanto la possibilità di scegliere anzi la possibilità sicuramente ce l'avete di scegliere il colore che più vi aggrada e qua dalla mia alla mia destra abbiamo una grandissima carrellata di fiat panda questo proprio per darvi quella che veramente l'opportunità unica che avete in questo momento storico particolare di trovare il prodotto qui dal gruppo fossile qualche esempio qui abbiamo una fiat panda è una mille benzina della giugno 2021 a chilometro zero hybride come vedete nella scritta un'autovettura che viene proposta a un prezzo particolare pensate di soli 99 euro al mese vogliamo vedere qualche jeep per esempio jeep renegade limited questa anche lei è stata immatricolata aprile 2021 è una chilometro zero qui trovate tante chilometro zero ma trovate anche tante autovetture usate dopo andremo a cercarne qualcuna magari con dei prezzi proprio piccoli piccoli perché vogliamo dare a tutti la possibilità di trovare l'auto dei propri sogni qua parliamo di una limite da un mille benzina 120 cavalli chiaramente chilometro zero aprile 2021 a 22 mila e 700 euro proseguiamo guarda gianni se fai un giro su di te e mi vieni dietro vi faccio vedere questa che è una vettura estremamente particolare perché un chilometro zero gpl ci sono ancora moltissimi amanti di questo tipo di alimentazione che sapete ha dei consumi veramente incredibili bassissimi con poche euro si fanno centinaia di chilometri fiat panda questa è una 2 benzina 69 cavalli immatricolata giugno del 2021 proposta 11 mila e 900 euro qua abbiamo un'altra carrellata di limited renegade a 21 mila e 900 euro e andiamo avanti guarda questa che carina questa la voglio far vedere perché come dicevo prima qui dal gruppo fassina non è soltanto autovetture chilometro zero ma anche autovetture d'occasione tutte le autovetture vengono ricondizionate ripreparate in maniera tale da essere pronte per andare su strada e dare garanzie di affidabilità questa nello specifico è un aprile 2013 pensate a percorso solo 70.057 chilometri ci tengo a sottolineare il 0 57 perché qui dal gruppo fassina i chilometri sono quelli veri originali certificati aprile 2013 diciamo poc'anzi 12 mesi di garanzia proposta a 7.200 euro qui la possibilità veramente è di trovare autovetture a partire da 3 4 5 mila euro fino a salire avete visto prima a inizio trasmissione prodotti che superano abbondantemente i 100 mila euro per cui qui venite assolutamente sereni che l'auto dei vostri sogni la potete sicuramente trovare chiaramente qui dal gruppo fassina potete trovare non soltanto le vetture chilometro zero dei marchi di rappresentanza ma anche anche qualche particolare vettura che viene ricercato sul mercato internazionale per darvi un'ampia offerta in questo specifico caso abbiamo una Toyota iGo con NETX Play 5 porte del luglio 2021 per cui matricolata praticamente ieri o l'altro ieri autovettura con la garanzia ufficiale della casa fino a luglio 2024 chiaramente chilometro zero proposta a 12.900 euro grande carrellata di Fiat Tipo in tutte le sue versioni la 5 porte la station wagon sia nelle vetture a chilometro zero che usate ma addirittura nelle vetture a chilometro zero possiamo trovare già anche le nuove versioni restyling vedete le riconoscete da questo frontalino nuovo questa per esempio è una Fiat Tipo Cross è una 1000 turbo benzina la vettura del marzo 2021 a chilometro zero proposta a 19.200 euro ma per gli amanti delle 500 partiamo da quelle un po' più muscolose Fiat 500X Cross autovettura a chilometro zero del 2021 e matricolata qualche mese fa tre mesi fa un'autovettura 1000 turbo benzina a 120 cavalli proposta a 21.400 euro la trovate in bianco la trovate a qualcosina in meno questo è un gennaio 2020 a 20.900 euro insomma la disponibilità è veramente ampia volete un'autovettura usata non la volete a chilometro zero perché volete risparmiare a qualcosina guardate qua Fiat 500X City Cross 37.144 chilometri originali e certificati maggio 2019 proposta con galanzia ufficiale della casa a 15.900 euro adesso ci spostiamo qua in giro vi porto in questo mare magnum di autovetture perché voglio far vedere qualche Alfa Romeo interessante e magari qualche macchina orientale quando parliamo di Alfa non possiamo non parlare dei due best seller per cui parliamo di Giulia parliamo di Stelvio che vedo qua una bella infilata di autovetture ce ne sono addirittura 1 2 3 4 5 6 disponibili in pronta consegna parliamo di Giulia sprint cambio automatico automarce una 2002 turbodiesel 190 cavalli che ha percorso solo 225 chilometri 225 chilometri pochissimi autovettura del gennaio 2020 proposta a 44.900 vedete qua la grande disponibilità in vari colori ma andiamo a vedere la Stelvio perché ne ho visto una particolarmente interessante guardate che bello questo colore verde molto molto sportivo però a me piace in particolare questa con questo cerchio Stelvio veloce cambio automatico 8 marce chiaramente 4 ruote motrici chilometro zero del 2021 210 cavalli 2002 turbodiesel proposta al prezzo particolare di 48.900 e adesso vi porto a vedere qualche vettura con gli occhi a mandarla vi avevo promesso qualcosa di orientale chi meglio di Hyundai può rappresentare i marchi d'oriente Hyundai Santa Fe Excellence è una vettura chilometro zero sette posti 4x4 automatico più ne ha più ne metta giugno del 2021 autovettura pensate con la garanzia ufficiale della casa fino a giugno 2026 proposta a 46.900 euro sempre di casa Hyundai vi voglio far vedere questa che è la novità diciamo del momento stiamo parlando di una vettura full electric parliamo di una Kona Excellence è una vettura che ha percorso soltanto 8.521 chilometri febbraio 2020 proposta a 29.900 euro chiaramente tutte le autovetture che vedete qui hanno la possibilità di essere acquistate tramite finanziamenti tramite leasing anche noleggio a breve dando in permuta il vostro usato sono tutte autovetture che vengono chiaramente ricondizionate rimesse su strada per darvi la massima garanzia di affidabilità come dicevo nella trasmissione Pucanzi non è soltanto i gruppi di rappresentanza ma anche qualcos'altro che viene scelto per voi sul mercato internazionale per darvi la possibilità di trovare proprio la macchina giusta per voi qua siamo in casa Renault è una Clio Grand Tour Limited è una novecento di cilindrata 48.615 chilometri certificati proposti dal gruppo Fassina 11.900 euro ho anche qualcosa di Opel lo so che la Opel in questo momento sta andando vieni con me vieni con me Gioao mi segui non faccio rumori strani con questo microfono per cui stiamo andando bene qui abbiamo una grande Land X 19.523 chilometri del febbraio del 2020 proposta dal gruppo Fassina qui in via Giovan Bastita Grassi a 22.400 euro vi invito sempre a chiamare per fissare eventualmente un appuntamento ma soprattutto la prova su strada perché le autovetture vanno provate perché soltanto provandole che ci si rende conto se l'autovettura giusta per noi e soprattutto delle caratteristiche dell'autovettura che sono solo su strada verificabili Opel Crossland Elegance questo è un 1.2 benzina da 83 cavalli un chilometro zero maggio 2021 proposta a 18.900 euro vi volevo portare via 100 euro già ero a 19.000 18.900 euro se hai la possibilità di girarti di 180 gradi facciamo vedere questa BMW 118 M Sport anche lei un usato del 2018 26.941 chilometri percorsi un 1.5 benzina autovettura molto interessante per la dimensione anche per la città a 21.900 euro Skoda Karok ACT 1000 turbo benzina del luglio 2019 27.261 chilometri percorsi un colore marrone metallizzato veramente affascinante a 17.900 euro stai pensando alla 500 stai pensando a questa vettura iconica del marchio Fiat e qui hai la possibilità di trovarla in tutte le taglie in tutti i modelli credimi anche in tutti i colori partiamo da questa Fiat 500 Calte questa è una vettura del luglio 2021 chilometro zero ibrida proposta a 13.900 euro qui abbiamo un'autovettura usata questa è un'autovettura del 2020 ha percorso 6.934 chilometri un 1.000 benzina l'allestimento è 500 lounge anche lei ibrida proposta a 12.900 euro qui abbiamo una versione particolare con l'impianto a GPL perché è una vettura 500 anche lei Calte chilometro 0 giugno 2021 con il l'allestimento GPL è una vettura proposta a 13.900 euro la vogliamo un pochino più come posso dire muscolosa più spaziosa ecco qua Fiat 500 L vettura che ho avuto modo di provare ultimamente è impressionante l'abitabilità interna c'è uno spazio incredibile Fiat 500 L mirror questa è un'autovettura 1.300 multijet chiaramente turbodiesel 14.171 chilometri percorsi garanzia ufficiale di 12 mesi a 15.900 euro qua abbiamo un'altra mirror con 17.000 chilometri qui abbiamo una 500 L per questa la versione cross la riconoscete per queste profilature particolari che la rendono un attimino più aggressiva 12.982 chilometri gennaio 2020 proposto a 17.400 euro qui abbiamo questa 500 Lounge chilometro zero del 2021 a 13.900 euro anche lei chilometro zero hybrid un colore molto bello questo per darvi l'idea farvi vedere cominciare a toccare con mano anche se dal punto di vista del video la grandissima disponibilità di prodotto che ribadisco in questo momento storico particolare è assolutamente unica che potete trovare qua in via Giovan Battista Grassi al numero 98 presso il gruppo Fassina vi ricordo 40.000 metri quadri di disposizione a disposizione vostra di autovetture sia l'autovettura chilometro zero sia tutti i marchi di rappresentanza del gruppo anche la possibilità di vedere le meravigliose Bentley le super sportive McLaren nonché tutto il prodotto chilometro zero che mi sto mostrando se Gio mi segui volevo far vedere queste due autovetture particolari che sono alle mie spalle una Jeep Renegade Limited questa è 20.900 euro il prezzo è un giugno 2021 avrei voluto presentare questa bellissima questa è una compass se non ricordo male ma vado a controllare con esattezza perché alla mia età ormai infatti è una Jeep Compass ogni tanto mi ricordo questa è una versione 4x4 con motore ibrido infatti è una 4xE 1.300 benzina 180 cavalli 4.390 chilometri pensate è stata venduta 36.600 euro ma non disperate perché gli arrivi sono sempre tantissimi siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento allora mi raccomando noi vi aspettiamo sempre qui in via Grazia numero 98 con tantissime offerte ma concludiamo abbiamo iniziato in un reparto speciale e concludiamo esatto chiudiamo con la velocità lo stato puro con queste autovetture che sono guidabilissime in città ma anche in pista vi possono dare grandissime emozioni vi aspettiamo numerosissimi qua viaggiamo a Mattista Grazia numero 98 da lunedì alla domenica tantissimi venditori a vostra disposizione per trovare l'auto dei vostri sogni ciao Dani grazie a tutti voi ciao alla prossima ciao